gentili telespettatori buona giornata anch'io ieri ci sono rimasto un po come la meloni che vuole fare una sorta di pdl nuovo chiamato ovviamente in un altro modo vi ricordate il famoso predellino di berlusconi che è salito sapete dove si apre la portiera della macchina sul marco come come si chiama salito in piedi che faceva annunciava annuncio bobis la nascita del pdl andate in pace una roba del genere no ecco possibile che la meloni voglia fondare un nuovo partito magari dando retta alla boldrini fratelli diventa fratelli e fratelli e sorelle d'italia no tipo tipo vaticano possibile che la meloni voglia veramente fondare un partito e fonderci dentro salvinius e la lega e silviuccio caro con forza italia dato quello che vi ho raccontato ieri su silvio e berlusconi che si ritrovano per sparlare della meloni come dice il corriere della sera ma dove le trovi ste cose lo dice il corriere della sera che ha degli informatori che sono stati al tavolo sapete che è pieno di lingue lunghe pieno di di persone che cantano i giornali il corriere della sera ha saputo che da commensali persone che erano lì commensali o qualcuno che ha sentito che ha visto che che berlusconi e salvini fanno a gara si ritrovano ne fanno a gara a parlare male della meloni e chi ne parla peggio caspiterina insomma una bella compagnia eh cara meloni sei proprio hai proprio una bella compagnia di amici eh caspiterina anch'io sono stato in passato in compagnie dove poi ho scoperto che quelli che credevo amici non lo erano una volta mi prende da parte un un ragazzo massimiliano non dico il cognome se no mi dice luca guarda che quello lì che tu credi che un amico non è un tuo amico credimi mi diceva non è un tuo amico e lì ho capito ho capito tutto ho capito tutto certo in politica non sono amici non sono amici però è una coalizione di governo ma che te coalizzi no c'era un c'è un bel un bel film che ogni tanto appare su youtube poi lo cancellano per i diritti c'è gente che lo mette su che si chiama parenti serpenti guardatelo è bellissimo è una finestra sugli anni 80 sotto natale bellissimo eh si chiama parenti serpenti ecco con questo vi ho detto vi ho detto tutto eh o come c'è un detto che dice più i parenti i parenti sono come gli stivali più sono stretti più fanno male sono veramente un saggio e chiamatemi il grande saggio vabbè naturalmente sto scherzando e così si dice che alle europee del 2024 dove la meloni potrebbe fare come salvini nel 2019 arrivare anche al 35 per cento abbiamo visto che la meloni hanno fatto un sondaggio per le elezioni che ci saranno in lombardia la meloni cioè fratelli d'italia il lombardia ha il 34 per cento e la lega 5 per cento 5,2 vi ricordate che si chiamava lega nord lega lombarda ora di lombardo non c'è proprio più niente no e così si dice che dovrebbe dar vita al pdl 2.0 preceduto da un predellino per chiamare a raccolta le varie anime dell'alleanza lo scrive francesco verdirami editorialista di politica sul corrierone della sera dicono che c'è un esercito di eletti e non eletti in attesa del segnale il segnale di meloni al mio via scatenate l'inferno vabbè sono oggi sono un po teatrale barra cinematografico ma attendono il segnale attendere prego il segnale di giorgia meloni per scatenare il pdl 2.0 e in effetti già si notano i primi movimenti oltre al posizionamento dei centristi è sintomatica la spaccatura azzurra in sicilia e intanto diciamo che adesso di quello che torna a parlare berlusconi berlusconi insomma che delusione quest'uomo diciamo che negli anni 90 io ero un berlusconiano come praticamente tutti quasi tutti quelli del centrodestra di oggi ai tempi erano tutti berlusconiani aveva il 40 per cento silvio ciocaro gli altri partiti erano di contorno no facevano il contorno del come l'insalata è stato poi nel tempo una vera e propria una vera e propria delusione no la politica ad personam altro che è sceso in campo per noi l'ha fatto per noi come diceva cornacchione sì l'ha fatto per noi l'ha fatto anche per noi prima di tutto l'ha fatto per sé per le sue aziende per i suoi processi va bene intanto Antonio Tajani viene accusato di essere il collaborazionista della premier povero Antonio Tajani l'ho criticato tanto come portavoce di berlusconi ma poveraccio fa il suo lavoro insomma qualcuno dovrà fare il portavoce di qualcuno povero Tajani insomma adesso è diventato il collaborazionista della premier perché è una persona come si deve non è un invidioso come quegli altri allora diventa un collaborazionista ecco un Tajani che vuole fare il suo lavoro nel governo meloni e seguire il presidente del consiglio persona intelligente per i due invidiosi diventa un collaborazionista roba da amati bene ecco e comunque questo poi ve lo racconterò in un prossimo video perché la situazione nel centrodestra non è mai cambiata chi avesse pensato che berlusconi e berlusconi fosse rientrato nell'ombra e salvini si fosse fosse diventato un meloniano ha capito proprio male perché dalle da quello che si dice da chi ha cantato ai giornali berlusconi e salvini si riuniscono vanno a pranzo e cena e fanno a gara a chi la dice peggio contro la meloni pensate un po no come come interpretate questo pura semplice grandissima invidia non ci sono altre soluzioni non ci sono altre spiegazioni si parla solo di invidia e l'invidia non è controllabile nasce nelle persone così e non è controllabile anzi si dice che gli invidiosi pensano che gli altri invidino loro no ne ho conosciuti tanti di invidiosi anche di grandi invidiosi sono delle patologie che non si possono controllare è difficile l'unica cosa che puoi fare quando quando trovi e vedi un invidioso è allontanarti perché non ci sono altre soluzioni con l'invidioso non puoi parlare perché la sua invidia va sopra ogni cosa grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti